Che stai facendo? Che stai facendo? Che stai facendo? Che come sei? E io lo scopro? Dove ti trovi? E io ti dico? E come tu? E io sono? E dove sei? A Toscana. Qual è il tuo aspetto? E non sarebbe il tempo quando per questo sei? A cosa pensi? A Toscana. Qual è il tuo impegno? Invegni. E nel tuo tempo? Tensi. Che risultati hai? Che risultati hai? Che risultati. Che risultati. Che risultati. Che risultati. Grazie a tutti.